Il bilancio sociale è un documento fondamentale che fornisce informazioni dettagliate sulle performance di un'organizzazione, andando oltre i risultati economici al fine di includere l'impatto sociale e ambientale delle sue attività. Questo tipo di rendicontazione considera tutti gli stakeholder coinvolti, offrendo una visione completa del valore generato dall'impresa. Con l'evoluzione delle normative e l'aumento delle richieste di trasparenza sugli impatti sociali e ambientali, il bilancio di sostenibilità d'impresa è diventato uno strumento essenziale per la gestione aziendale. Esso supporta le decisioni strategiche e la comunicazione interna ed esterna sui temi ESG, Environment, Social, Governance, evidenziando il valore creato. Vega Formazione, con il corso Sostenibilità d'impresa, strumenti di pianificazione, Misurazione e rendicontazione, bilancio sociale e di sostenibilità, mira a fornire una comprensione approfondita del percorso strategico e gestionale per la revisione dei processi di rendicontazione non finanziaria, al fine di redigere un bilancio di sostenibilità d'impresa completo. Le ore di formazione svolte con il presente corso sono riconoscibili ai fini della certificazione delle competenze come HSE Manager ai sensi della Norma Uni 11.720.